Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Il traffico per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Sulla statale 1 Aurelia fino a fine novembre lavori a tratti saltuari tra Scarlino e Venturina in entrambe le direzioni tra i chilometri 221,800 e 226 con scambio di carreggiata. Sulla statale 3 Bistiverina fino al 22 dicembre scambio di carreggiata tra i chilometri 149,550 e 144,700 e chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrata e uscita in direzione Orte. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!